eh? no no aspetta 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 dai no non ha funzionato bene aspetta le mani le mani si un po' si vede come un po' si 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 vede si vede dal vero si vede io no io li tiro su senza dita no Giada togli la mano se non lo viene rispetto mamma rifai? rifai? ecco si si vede bene vado? si spengo